ciao albano come va porco cane adesso adesso finalmente ci vediamo da vici facciamo una foto con sta ragazza e poi facciamo una foto e poi dobbiamo parlare di quella ok ti ricordi il dito quella volta due anni fa mannaggia ma ne avevo fatto apposta una cosina sola allora c'è una diretta io se non vado la non faccio la diretta vabbè allora albano ok quando ritorni ok allora un attimino solo su ecco qua finalmente oggi sei qui in festa di papà hai sei figli abbiamo qualche cosa in comune perché io ho sei fratelli senti allora come vai con questi figli come idrati brava gente bravissima no come idrati da papà pane amore e fantasia vabbè non te rompo più da tanto perché c'è da fare ciao albano alla prossima a famo ciao allbana ciao ciao